La Certosa di Firenze, complesso monastico codificato a partire dal 1341 per volere di Nicolò Ciaioli, membro di una delle più illustri casate fiorentine che ebbe grande prestigio presso la corte del regno di Napoli dove fu nominato Gran Siniscalco e vicere di Puglia, è raccontato dal documentario di Luigi dell'Elba Un luogo infinito, presentato in anteprima a Firenze Archeofilm 2023 in programma alla compagnia fino al 5 marzo. Siamo riusciti a fare un documentario di 53 minuti che sono le durate standard per i passaggi televisivi e abbiamo dovuto scartare un sacco di materiale perché c'è talmente tanto da dire su questo luogo che non potevamo allungare il documentario più di tanto. La Certosa, che domina e guarda Firenze dal Galluzzo, imponente e ieratica, a pochi passi dalla città eppure silenziosa e luogo di meditazione, è ancora oggi uno dei monumenti più suggestivi delle colline fiorentine. Testimone di arte, storia, vita religiosa e di rara bellezza architettonica con la sua struttura composta da cappelle, cortili, chiostri, rifettori, sale dedicate alla conservazione di importanti opere d'arte. Una testimonianza della storia fiorentina che oggi viene trasmessa ai tanti giovani che frequentano il Festival del Cinema di Archeologia, Arte e Ambiente Firenze Archeofilm organizzato dalla rivista Archeologia Viva. È nata per la velleità di un grande banchiere fiorentino toscano, l'Acciaioli il quale voleva accattivarsi le corti francesi e quindi realizzò questo monumento, questa opera per se stesso per far vedere quanto era potente. E la certose è differente rispetto alle altre certose che troviamo in Italia in quanto c'è un palazzo, era il palazzo Acciaioli appunto, che non ha niente a che fare con la parte religiosa. È stata la sede di due papi, ci sono passati, sono stati imprigionati due papi, c'è stato Napoleone ma soprattutto è stato il rifugio di Pontormo, durante la peste lui ci ha vissuto diversi anni realizzando gli affreschi che purtroppo si vedono ancora, sono ancora presenti alla certosa ma che non hanno più la bellezza del tempo. Lui ci doveva stare per un breve periodo il Pontormo, un mese, due mesi finita la peste di Firenze sarebbe ritornato in città, ci è rimasto per cinque anni. Il documentario Un luogo infinito che vede la partecipazione dello storico dell'arte Antonio Natali e con la voce narrante di Sandro Lombardi e le musiche originali di Maria Socci è prodotto da Media Soluzioni Firenze con la consulenza scientifica di Giovanna Carli. La certosa è un posto per tutti, che è lì ed è questo luogo da scoprire ogni giorno un luogo che non finisce mai di sorprenderti. Grazie. Grazie. Grazie.